segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera professor rossini buonasera buonasera lei sa che guardando tanto adesso mi viene lei non era lì come mai io ho ricevuto l'onore di essere l'hanno invitato mi hanno invitato certo è stato per me un onore lo chiedo perché mi viene in mente sì sì no l'ho detto a santoro l'ho ringraziato molto detto mi sento onorato che questo invito mi arrivi da parte sua perché una grande stima una grande considerazione per santoro non ci crederà ma è stato un impegno familiare che mi ha impedito di andare perché lei ha il bambino a tenere con sua moglie che si dividono gli orari no perché bisogna anche sapere il professore che sembra così la sua vita quando ci sentiamo c'è sempre sto bambino che piange che ride che è vero ve lo dividete lei e sua moglie perché in epoca covid non possiamo chiedere aiuto chiaramente no per non fare entrare in casa estranei e di conseguenza lavoriamo entrambi quindi anche la notte lei lo gestisce di tanto sì direi di sì nel senso che ci dividiamo il lavoro mia moglie lavora quindi metà giornata io con il bimbo l'altra metà lei ci diamo il turno io le voglio chiedere una cosa l'ho chiesta anche indirettamente a cacciari il papa che fa un'intervista molto importante col direttore del corriere della sera luciano fontana dice che la nato abbaiata ha usato un verbo un po particolare l'ha stupita ho un po di difficoltà a parlare dell'intervista del papa perché non vorrei dare l'impressione di volerla strumentalizzare però il suo pensiero è stato espresso in maniera chiarissima sostanzialmente detto che l'espansione a est della nato è stata una concausa dell'aggressione militare di putin nei confronti dell'ucraina questo chiaramente non vuol dire giustificare questa assurda violenza che tutti noi condanniamo ma mi sembra che il papa si ha stupito o no questa versione non mi ha stupito perché per me è un fatto talmente ovvio banale lo spiego anche nel mio libro che sarà pubblicato tra qualche settimana sull'ucraina che è l'espansione della nato quindi lei scrive il libro sull'ucraina sa che lei dicono non ha i titoli non abbia i titoli sì no ho sentito sono abbastanza ma si arrabbia lei perché in foto dicono è un sociologo cosa sa di guerre ma non è esattamente così perché io mi sono occupato di guerre praticamente per tutta la vita ma scusi se io lo chiedo no no fa benissimo io mi sono occupato di guerre per tutta la vita e ci tengo a mandare questo messaggio perché l'unico pubblico a cui io sia interessato è il pubblico dei diciottenni molti mi scrivono professore sto per diplomarmi vorrei andare all'università allora il messaggio che vorrei mandare a questi ragazzi è sappiate che uno studioso serio di terrorismo internazionale è sempre un esperto di guerre per due ragioni perché gli attentati terroristici possono provocare le guerre ad esempio l'attentato contro le torri gemelle ha provocato la guerra l'invasione americana dell'afghanistan e le guerre possono essere con causa della nascita delle organizzazioni terroristiche ad esempio l'invasione americana dell'iraq è stata una delle principali con cause della nascita di al qaeda ho letto che lei quando ci sono dei colleghi che dicono ma orsini non è a livello nostro ma ce l'hanno con lei perché lei ha denunciato brogli nei concorsi può essere questa lotta sua contro i baroni la ragione è questa nel 2010 ho denunciato alla magistratura tutti i baroni più corrotti della mia disciplina la magistratura ha annullato i concorsi che io avevo impugnato quindi la magistratura mi ha sempre dato ragione stiamo parlando della disciplina in cui mi trovavo all'epoca che si chiama sociologia politica tutti i professori ma proprio tutti della sociologia politica si schierarono a difesa della commissione che aveva operato male secondo la magistratura contro di me hanno fatto dei documenti pubblici firmati contro di me la mia carriera è stata distrutta perché poi loro si sono vendicati nelle commissioni di concorso mi hanno bocciato mille volte ingiustamente io sono stato bocciato mille volte nei concorsi universitari da professori con profili scientifici bassissimi in base ai criteri stabiliti dal ministero dell'università cioè io ho pubblicato i miei libri per le più importanti università del mondo e sono stato bocciato da professori senza uno straccio di internazionalizzazione che hanno pubblicato soltanto in italiano e che vanno anche in giro a rilasciare di virgolettati per la stampa contro di me ed è grottesco perché la stampa non si è la stampa di torino che ha fatto questa operazione vergognosa anzi la voglio denunciare credo sia gatti sì la voglio denunciare la voglio denunciare questa storia perché ho con ho già tanti nemici adesso giannini non è qui io ho degli audio degli audio delle mail e dei messaggi scritti di colleghi autorevolissimi quali mi hanno detto alessandro proteggiti perché c'è questo claudio gatti che addirittura una mia collega ho proprio l'audio whatsapp quindi se necessario lo metterò anche nelle mani della magistratura e lei mi dice e ho dovuto bloccarlo sul telefono perché cercavo in tutti i modi di spingermi a dire delle cose cattive sulle tue pubblicazioni scientifiche lei ovviamente sa che in televisione poi si assume la responsabilità di quello che stai dicendo certo io aspetta però siccome sono in televisione mi faccio raccontare la mia editor rizzoli ha fatto con lei un libro rizzoli nel 2016 e questa editor ha fatto anche un libro tre anni fa con questo gatti questo gatti le ha telefonato il giornalista senza dirle che stava investigando su di me e le ha detto che io a lui ero antipaticissimo che detesta il mio pacifismo e gli ha fatto anche domande sulla mia vita privata e questa questa aspetta aspetta mi faccia raccontare questa editor gli ha detto guarda alessandro orsini un ragazzo onestissimo che ha dedicato tutta la sua vita agli studi e quindi non mi piace questo atteggiamento di parlare male di lui quindi stiamo parlando di una persona che sulla base delle della documentazione scritta che ho acquisito su di lui e degli audio che mi sono stati inviati da queste colleghe era prevenuta nei miei confronti e infatti lui ha intervistato in questo articolo dei professori con i quali mi sono scontrato in maniera durissima a livello pubblico non privato e ha virgolettato i commenti di questi professori senza dire che io mi sono rivolto alla magistratura avuto il coraggio di denunciare la corruzione dell'università italiana e che hanno distrutto la mia carriera perché mi hanno bocciato mille volte ingiustamente nei concorsi io vado fiero del fatto di essere stato bocciato nei concorsi e se lei va nel web e scrive alessandro orsini concorsi truccati troverà addirittura degli articoli del corriere della sera che all'epoca dei fatti si schiarò dalla mia parte che questa sera la sanno tutti perché l'ho denunciata anche in televisione e in questo giornalista non l'ha raccontata non ha raccontato che alcuni dei virgolettati pronunciati da questi professori contro le mie pubblicazioni scientifiche sono di professori con i quali io mi sono scontrati in maniera durissima quando io ero un ragazzo giovanissimo debolissimo in una posizione accademica fragilissima e la stampa non ha raccontato questa storia poi dopo aspetti mi scusi perché questa è una cosa ingiusta stiamo prendendo molto tempo no scusate no mi scusi calma dietro le telecamere perché in questo momento personale calma non è che io posso decidere quello che dice un ospite dottore mi scusi se mi accaloro ma anche se vi chiamano di dire chiunque calma lo giustisco io mi scusi se mi accaloro ma lei non può capire che inferno sia stata la mia vita accademica quante ingiustizie abbia dovuto subire ma quindi lei dice che parte di questa violenza nei suoi confronti dialettica che arriva questo posso usare termine forse anche odio sì vi attacchi deriva anche da questo perché io mi sono rivolto alla magistratura quando io ho impugnato i concorsi irregolari la magistratura mi ha sempre dato ragione ho vinto tutte le mie cause ho ricevuto tante minacce da parte dei baroni della mia disciplina che mi dicevano se tu non ritirerai i ricorsi la tua carriera sarà distrutta questa storia la conoscono tutti in italia quindi non riesco a capire perché la stampa non l'abbia raccontato perché quando poi dopo la stampa scusi questo giornalista scrive che io sono stato bocciato due volte nel concorso ordinario di sociologia politica e poi ho vinto in sociologia generale io sono dovuto scappare dalla sociologia politica per questa storia che le sto raccontando e ho vinto l'idoneità scientifica nazionale da ordinario in una disciplina in cui è molto più difficile vincerla perché per vincerla in sociologia generale deve avere molte più pubblicazioni rispetto alla sociologia politica professore la devo fermare no però devo fermare non c'è la stampa eccetera io devo dare anche possibilità di replica eventuale ma no mi scusi se io mi accaloro però è un problema il messaggio che tu mandi ai giovani perché se io accetto questa situazione senza raccontare come stanno i fatti realmente però mi scusi professore non posso dedicare ho poco tempo sì perché mi scusi sì perché mi scusi no cerchi